ciao ciao a tutti benvenuti o bentornati in questo nuovo video di GAMIC ASMR continuiamo da dove eravamo rimasti spero di riuscire a fare più di un livello sempre se non mi fermo su un livello per 3 ore perché sono scarsa, cado 100 volte e mi fermo 3 ore su un solo livello allora andiamo avanti, sono da rifare questi livelli perché non ho preso tutto però vabbè oddio con lei mamma mia devo stare attento a ogni singolo angolo iniziamo proprio subito subito vi ricordo ragazzi di iscrivervi al mio canale e di lasciare un mi piace se vi piacciono i miei video e ditemi nei commenti se vi va che continuo a portare questa serie o altre serie di altri giochi e se volete sostenermi c'è sempre il link sotto in descrizione e nulla, ora iniziamo e vediamo cosa succede so che questo cresce infinito, i livelli non finiscono mai non hanno mai voluto segni una fine, oddio questo è un livello abbastanza bruttino spero di riuscire a trovare tutte le scatole quella come si prende? ok qua non ci sono scatole ma dai che cagata e già e già ho fatto una morte così stupida come non mai allora ma c'è da qua mi prende? assurdo no no voglio ricominciare oh non l'accetto ricomincio 3 ore prima di ricominciare il livello mamma mia salta ok e poi e poi a cagare levati ribio mi viene un ansia davvero non mi riscopio così ma ok non c'è niente non c'è niente no ok non c'è niente c'è una segreta bella visibile c'è una segreta no quando si incerta l'altra parte ma va ancora a 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 madonna no devo aspettare che passa lo squalo ma quelle cadono madonna che culo sembra ci fosse il doppio squalo sembra ci fosse il doppio squalo eh eh oh dio salvatemi che coglioni a 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 chissà se c'era qualcosa sotto non è che hai guardato non ci sono stata attenta ok come ti pare cosa cazzo fai non si sa che madonna no dovevo fare la scatola c'è da fare anche con la scatola per giunta guardate che brutti maiali odile levati spostati spostati levati difficile 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 più più che farvi venire voglia di andare a dormire vi faccio finire ansia con questo gioco allora andiamo giù no 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 la c'era una scatola nooo nooo voglio morire c'era una scatola no dovevo rifare sta roba oddio oddio c'era una scatola come faccio a prenderla con la scatola scusa ma ma vai a cagare levati questi stronzi no sto sotto rifacendo le cose cento mila volte per prendere le scatole di merda se ci mettono anche loro eh vabbè andai vai a cagare finito le vite sta fermo con sti coltelli ok sei stupida ti sembra che ho preso la corda adesso devo capire come prendere quella scatola come la prendo quella ok 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 ma bene ma oddio c'è anche la scatola lita ma allora sono bastardi madonna che pezzenti che pezzenti che roba ok concentrazione oh oh no dai l'avevo presa va bene dai ho solo quattro vite e mi viene da piangere oh ragazzi non posso fare niente ehm io gioco così a carnicere ma che dove no oddio stavo cadendo no dai mi fate sparcare le ultime quattro vite che ho ci volete pismo qua oh devo saltare ok dai ma porca puttana dove cazzo va no vabbè dai oh che coglioni guardate anche l'atterraggio deve essere super preciso ma va va santo cielo ma perchè ti giri dall'altra parte e portare incoglionita ce lo faremo ce lo faremo no ok dai mi a cagare no no via e si c'era di l'albo problemi mentali questa ho detto so tre ore sul livello mamma mia che palle non è che si può dare belli fruiti veloci no oh dammi sto cazzucino ce l'è ma vabbè a culo via fammene andare se e continua per l'amor di dio adesso il prossimo livello non mi ricordo neanche come vediamo un po' come ma il boss oddio sa che non lo so ma ma guarda la voglia di farlo è proprio pari a zero qua ci sono queste potrei farlo non lo voglio aspetta voglio fare un altro livello madonna c'è la maschera qua ah si qua c'è il boss mamma mia qua ci perde un anno un anno intero qua alla fine c'è il boss che mamma mia difficile difficile ma non troppo andiamo un po' e se finisco le vite però devo ricominciare anche da capo così quasi tolgo la cosa delle morti cioè che se muoio perdo vite non so se si può cambiare durante un livello vabbè proviamo vediamo un po' come va vabbè proviamo scusa levati e fino a qui ma che c... ma che c... ma... e fino a qui mi ha ucciso il cuore in bambino è andata bene mi decide col Mona levati mi servono mele va? mi fa così va? 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 ho fatto questa cosa? allora devo prendere più mele perché mi servono più vite e prendo poche mele ok ok forse che ci fosse qualcosa che ca? c'è qualcosa? non lo so no, spero che no scusa, levati aspetta ansia ma vai a cagare, guarda come sono caduta madonna, che roba, che nervoso ok come ti pare, come ti pare, come ti pare madonna, madonna levati vorrei un altro cibo ok, devo spaccarli subito vaffanculo da qua, che palle che noia madonna, stavo caduta un'altra volta questo punto di merda vai, ma che cazzo fa? ma perché non si muove? oddio, che fastidio stavo finito madonna no, guarda mi nervosisco tantissimo sto gioco di merda ma, 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 ma faccio un culo, va ma vai a cagare, ma vai a cagare no, no ok, cos'è? oh, non salta non va non basta non incoglionita non va perché è andato così veloce? oh, oddio, 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 che noia oddio, oddio ho aperto le vite qua invece che perdere col boss boh, salta ma, ma, ma fa un culo lo stesso frutto mi sta sicuramente perché non riesco a fare la scivolata niente non riesco a farla ce la farò? boh ma perché non fa la scivolata? non capisco boh, perché non mi viene? boh no, vabbè, no, vabbè questa è una rincoglionita non riesco a farla scivolata è incredibile incredibile madonna, come mi sto innervosendo la voglia di buttare il gioco via è molto alta uccidetemi una vita reale, però ma vai a fanculo, madonna quando sto ferma lì oh, qua me la fa e lì non la fa boh non c'è che stavo finendo sui cosi qua pensa dai, sono stufa sono da cieco i coglioni no c'è che stavo oh ce l'ho fatta vaffaculo voglio farlo mai più adesso col boss ho perduto tutte le vite e dovrei cominciare il libro da capo no raga scusate ma ho bisogno di arrosita tantissimo per prima non mi faceva la scivolata è stato deficiente e che nervoso non serve neanche che faccio tutte le scalare perchè serve la gemma verde ok ne prendo solo perchè ho bisogno di vite mi ha dimenticato qualcuna non ho la gemma ma abissare l'unico che ti vedo sentosti e che voi sentire manchino manchino e amati che roba ho? tra un po' ce posso, sono fregata non capite? che poche moledetti moledetti top di merda moledetti moledetti lasciatemi in pace un po' per fortuna rido per non piangere il boss è centrato su sti topini di merda che ti inseguono quindi sarà dura certo se perdo tutte le vite e ricomincio da capo a livello non gioco più spengo tutto 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 spengo tutto tutto torr che noia tutto tutto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è il topo? No, no, no. Sono triste. Mamma mia, che culo. Non so, non so, non so, non so. oh la banca ok oh 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 non l'avrei visto dai oh ma ce la si può fare madonna 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 ci sono anche i cannoni già devi stare attenta a 100.000 cos madonna o l'ho finito l'ho finito si grazie a dio grazie a dio adesso adesso c'è il boss ho solo 8 vite mamma mia la vedo non male di più non 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 si no 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 ciao ciao oddio che culo come ho fatto no raga io sono scioccata l'ho fatto a primo colpo mi vengo a piangere buono andiamo avanti per l'amor di dio ho fatto il livello malissimo mal boss ma il boss dai ce l'ho fatta non si sa come ho fatto è il primo colpo penso di perdere tutte maschera più brutta del mondo più odiosa del mondo ma che ma non mi piace anche quella quella del tempo quello di andare su e giù anche non mi piaceva dire ecco bene direi che può bastare per oggi ho fatto tutti i livelli ma io spero vi piaccia questa serie anche se magari può mi faccio divertire da quante volte mi faccio male io spero di avermi divertito o in qualche modo di avermi fatto rilassare non lo so io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Chau 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 chau